Ragazzi, dopo questa ho visto tutto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare il video riguardante il post partita di Inter Udinese perché ragazzi arriva la prima sconfitta stagionale per i Rene Azzurri perché ha perso 3-1 ragazzi, 3-1. Vi faccio vedere 3-1. Parte comunque subito bene la Sagna al 14esimo, poi al 15esimo segna il bomber Mauro Riccardi, quindi probabilmente gol ad Udinese ma subito segna, ci pensa il buon Mauro Riccardi. Poi però clamorosamente al 61esimo su rigore segna a Nepal e al 77esimo proprio chiude la partita definitivamente Barak al 77esimo. Allora ragazzi, io non l'ho vista la partita, non l'ho vista, però sinceramente posso dirvi che sinceramente questo Massimo Oddo sta facendo veramente all'Udinese una cosa incredibile, quella cosa che a Del Neri non l'ha proprio fatta. Cioè, ragazzi avete visto qualcosa all'Udinese? Cioè l'abbiamo visto un'Udinese fantastica, abbiamo visto. Poi io ovviamente non posso dire il gioco, ho visto solo il risultato, perché non voglio dirvi cose false ragazzi, sennò sarei veramente ipocrita. E adesso ragazzi vi dico subito la classifica di come è messa l'Udinese. L'Udinese è undicesima in classifica a 21 punti, a meno uno dalla Fiorentina che gioca domani contro, se non sbaglio ragazzi, contro chi gioca la Fiorentina, contro il Genoa. Invece l'Inter sta a 40 punti ed è molto buono ragazzi, sia per la Juve, per noi che per il Napoli, per le altre. E spero ragazzi la Juve possa vincere a Bologna, perché ragazzi comunque sempre a Bologna è un campo difficile, soprattutto come un allenatore con Donatoni. Però ragazzi se lo battiamo andiamo veramente a 40 punti, sono veramente molto contento. Ovviamente dobbiamo fare comunque la nostra partita, pensare a noi e poi pensare agli altri, soprattutto quello che fa il Napoli contro il Torino, perché se vincere anche il Napoli, ovviamente il Napoli è sempre primo. Quindi ragazzi, che dire, ho fatto un video al volo, questo video non lo volevo neanche fare, però poi ho detto lo voglio fare, perché da quando ho visto la sconfitta ho detto cosa, what? E quindi ragazzi sono qua a farvi dire cosa è successo. Quindi ragazzi noi ci vediamo con il post partita invece di Napoli-Torino, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci becchiamo nel prossimo video, un bacione a tutti, da Darchamette è tutto, ciao ragazzuoli!